Buonasera a tutti siamo a Policoro in piazza Eraclea festa dell'emigrante 2023 andrà in onda tra pochi secondi la mega quadriglia dell'Oionio la prima mega quadriglia dell'Oionio la comanderà il sottoscritto Filippo Mele musica potete cominciare attenzione promenà salutate il pubblico quando io dico e con te dovete girarmi e mi piace sentire un urlo Uè ecco tre Uè ecco tre Uè ecco tre Uè Uè fatemi sentire questo Uè adesso facciamo una delle figure della quadriglia adesso facciamo la prima figura Gli uomini da un lato, le donne dall'altro gli uomini da un lato, le donne dall'altro le donne, le donne si rifugge gli uomini, gli uomini, gli uomini vrai gli uomini, gli uomini, gli uomini Spostate, 4 metri, 4 metri! Spostate, spostate, spostate! Spostate, 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 spostate! Spostate verso l'indietro e li dietro! Ok, adesso facciamo l'inchino. Vedete, dov'è la mia nana? Allora, allora. Gli chevalier adesso hanno verso le madame e hanno fatto un numeroso inchino. Avanti, chevalier! Sì, rispettate le donne, sempre. Volete bene le donne? Guardatele bene. Gli uomini, gli sciamanè, non lo ripeto e si mettono tutti sulla stessa via. Adesso tocca alle madame fare la violenza tra i loro sciamanè. Grazie, grazie signore. Tornate al vostro posto. Adesso, se la riconoscete, recuperate la vostra dama. Recuperate la vostra dama. Recuperate la vostra dama. Non parlare. Proverate. Attenzione. Proverate. Proverate. Io vell'ontinenza del comandante. Se no siete espusi. Ecco tre, uè, 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 forte, uè, voglio sentire forte, ecco tre, uè, ecco tre, ecco Adesso facciamo un'altra figura per il rimetto del disco, le donne al centro, le madone al centro, gli scevalieri fanno un altro cerchio attorno a meno alto. E' un'altra figura per il rimetto del disco, le donne al centro, le donne al centro, gli scevalieri a sinistra. E' un'altra figura per il rimetto del disco, gli scevalieri a sinistra. adesso attenzione recuperate la vostra dama proverò 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 dietro di me proverò proverò non è proverò dietro di me proverò dietro di me proverò e adesso facciamo una cosa bella ben andando ecco me Fatemi sentire son way Ecco il 3 Adesso ragazzi voglio vedere se siete bravi Viene una delle parti più belle C'è la dà C'è la dà Fate un giro per la propria dà C'è la dà C'è la dà C'è la dà C'è la dà Come state? C'è la dà Una dà Allora vediamo Adesso Sei riuscita a recuperare la vostra dà Per recuperare la vostra dà Benvenitemi con me Lomenal Ci siamo rarissimi Carissimi E' un bello appena quadriglia Ecco il 3 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 E' un bello appena quadriglia E' un bello appena quadriglia Qui di Cevalier E' un bello appena quadriglia E' un bello appena quadriglia Si prende una parte La forma del ponte E' un ponte E' un ponte avesso Ricordate che la quadriglia E' un ponte elegante Niente calci Niente forte には Cielo E' un bello appena quadriglia E' un intellizzi E' un pie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.